attenzione attenzione sta girando un falso sito di giant giant sta già lavorando per oscurarlo ma qualcuno potrebbe incapparci e magari potrebbe fare degli acquisti diciamo così non sicuri e rimanerci fregato dato che le biciclette nel 2023 non costano poco anzi costano molto mi raccomando dobbiamo sempre stare attenti quando andiamo a fare degli acquisti online non è successo soltanto a giant è successo anche ad altri brand mi ricordo qualche anno fa ci fu un sito tarocco con delle offerte particolari di decathlon anche lì furono mossi mani e monti per toglierlo perché stava inchiappettando un sacco di utenti quindi bisogna fare molta attenzione allora come si fa per riconoscere un sito tarocco da uno originale normalmente nel sito tarocco ci sono sempre delle offerte che sono talmente belle da non essere vere infatti non sono vere quindi attenzione quando vi sembra che ci sia qualcosa di estremamente fantastico ecco guardatevi dietro perché probabilmente ve lo stanno mettendo come dica Nallivorno nel capra anzi quindi attenzione poi la cosa migliore da fare laddove è possibile sarebbe quella di andare nel negozio negozio o rivenditore del marchio a quel punto diciamo fregature non si hanno vi dico questo perché sta girando la notizia su alcuni siti di settore da diversi giorni quindi mi raccomando attenzione soprattutto adesso che settembre è il miglior momento non per andare in vacanza ma per comprare le biciclette quindi fate attenzione se incappate in qualche offerta molto strana quando profuma di affare di solito è una inchiappettata